Prego signore, accomodatevi. Grazie, Lucia. Scusate, ma sto pensando. Alla povera defunta? No, che quale, che ora resto senza giovancio. Ma ti godrai la pensione con tutti gli anni che sei stata al servizio, ti tocca pure bella grossa. Che sa signora Sara mi fa i miei contributi. In nero? Ero in nero, ma ora è anche completa. Ma ciò nonostante io ho continuato a mantenere la casa sempre in ordine. Ho coperto i mobili per la polvere, ho coltivato i suoi fiori, guardi, guardi, le piante, tutto. E ormai in questa casa ci sono io sola e occupo la cucina e la stanza da letto. Però tutti gli oggetti li ho sempre spolverati, sempre tenuti e puliti. Perché la zia ci teneva tanto le sue cose. Sì, sì, lo so, aveva un attaccamento morboso alle sue cose. Questo non si tocca, questo è di valore, questo è delicato. Quando io e le mie cugine eravamo piccole, ci faceva cadere le mani se toccavamo qualcosa. E fosse perché ogni cosa che toccava ora rompevano. Quando eravate piccole eravate tre pesti. La zia Sara, poverina, si atterriva quando sapeva che doveva venire qua. Danna e il fascisto tutte e cinque... Ma come tre? Scusa, ma non sono quattro le nipoti? Giorgetta non conta, era la spia. Già, Giorgetta raccontava tutto alla zia per paura di essere punita. Ma quella era ed è un angelo. Noi ci assuppavamo le punizioni e lei i regali. Lo sappiamo, lo sappiamo che è sempre stata la sua cocca. È stata anche l'unica che si è sempre vista in questa casa. Anche quando è morta la zia, lei era qua. Mi mancheranno le serate di giocate a carte. Mi mancheranno. Mi diceva, zia Sara, mi diceva Lucia, prepara il tavolo per giocare. E io già sapeva che pedeva. Era brava? Brava? Barava. Barava? Tu lo sapevi e non gli dicevi niente? Sarà che era per non darle dispiacere? No, 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 faceva fame a salute. Perché una volta per sbaglio vinci e me la stavo correre un po' di cenere nella testa. Un po' di cenere? Di cristallo, però. E sì, mi scalavo magari su stipendio. Meschina. Cacchina ci aveva buttato le mani e me la stavo correre a mia. Quando mi ho fatto in bagaglio nella vostra stanza. Non si sa. Arpia, zitella, arcida. Ma chi è, Lucia? Messia! Ah, ci siete pure voi. Rita? Sì, sì, siamo appena arrivati dall'aeroporto. Che strana la vita. Una settimana fa eravamo a festeggiare il nostro matrimonio. E appena siete partiti per il viaggio di nozze a zia ti randavo i palitti. Almeno vi siete evitati il funerale. Lucia, metti lo zano in camera. E buonasera comunque, ah. Ma la lucata... Speriamo che la lettura del testamento duri poco ma insomma gli altri quando arrivano forza Brando con queste valigie. Ma che ci mettete i pezzi che è in giro? Ciao a tutti. Mi guarda Brando, ci sono pure gli sposini. Lucia, porta i bagagli in camera. Camorria. Cosa hai detto? Eh, così sia. E comunque buonasera magari a voi oggi. Ma che ci mettete i pezzi che è in giro? Usenti. Magica impressione questa stanza. Leva questa lenzuola. Anzi, leva tutto così che mi sta venendo l'ansia. Ma picchi di scozzoli sì ci levi tu. Brando, non mi sembra il momento. Un po' di rispetto per di a Sara. Ma se non la son buttato mai. Sì, da viva. Ora morte. Pace all'anima sua e aspettiamo il testamento. Jessica, amore. Che c'è? Ma perché sei così aggressiva? Ah, chissà una caratteristica dei femmini di questa famiglia. Su, arraggiate. E senza spirito. Vi ricordo che eravamo in luna di miele. Si vede che c'è il cuore in dolzucco. Proprio si vede. E ci potevate restare luna di miele. Certo. Così vi lasciavo campo libero sul testamento. Lucia, togli questa lenzuola. Sì, la lenzuola. Jessica, aiutala. Perché non l'avete tu? Ragazze, basta. Ricordiatevi che siamo a lutto. A proposito, condoglianze. Attrettanto. Ma no per l'azia, per tuo marito. Ma chi la doveva dire che sarebbe morta due giorni dopo l'azia? Ormai era tutto organizzato. In che senso? Ma quante cose vuoi sapere, Enrico? Ma non mi pare tanta addolorata per la vedovanza. Ma che sarà che soffri di tra luoghi nell'interiore? E infatti non c'ho più lacrime. Caruso, spicciamoli. Perché questa sera non mi posso perdere l'ultima puntata della mia serie tv preferita. Ah vai, Enrico, non ci credo, magari tu. Magari tu fissate qui, beautiful e segreto. Ma quale, è una serie tv americana. Si chiama The Beach Dead. Ah sì sì, è tipo la serie sugli zombie, The Walking Dead, che mi pare che significa il morto che cammina. Tipo? E che significa The Beach Dead? Ah molto buttana. E chi sto significa? Banda alle ciance. Perché Giorgetta ancora non è arrivata? E se la prende comoda la signorina. Il notario è un momento qui. Io potevo essere alle Maldive e questa ancora non si vede. Amore, amore, calma che amore, appena prendiamo la nostra parte di eredità, altro che Maldive, il giro del mondo ti faccio fare. Casomai io te lo faccio fare, ti ricordo che l'eredità è mia. E meno male che sono sposini. Mia cugina ha ragione, è la nostra eredità, quindi decidiamo noi cosa fare con i nostri soldi. Voi siete soltanto i nostri consorti. Ma contiamo qualcosa oppure no? No, in Emilia R. chi comanda? La regina Elisabetta. Bravo, e suo marito chi era? Il re. Bagliato, era il principe consorte. E che signore? Sto non contavo un cacchio. Non sto capendo. Enrico, Enrico, se credo che era il principe consorte, e spatti era il principe, non contava un cacchio. Noi siamo solo consorte, se non ti capiscono, quanto vale? Menza lira. Hai visto? Ma amore. Non ho capito niente. Un figlio. Ai 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 ai. E signori, scusate, c'è il notario. Che fa, lo faccio entrare? Sì, sì, falle entrare. Così concludiamo che questi soldi mi servono per pagare tutti i debiti che mi ha lasciato quella cappata di mio marito. Se lo sapevo, lo facevo campare. E in che senso, scusa? Cosa? No, dico, che vuol dire lo facevo campare? Che so. Enrico, 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 tenemone forte, tenemone forte, non contraddiciamo le nostre moglie, perché io cavio, io, 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 io. Mi raccomando, Zia Sara è morta, quindi occhi bassi, faccia triste e addolorata. E poi in posizione. In posizione. In posizione. Prego, Montaneglio. Bestia. Capisco che la scomparsa della signorina Sara vi ha buttato nel massimo sconforto, ma dobbiamo seguire i leader burocratici, quindi devo per forza dare lettura del testamento. C'è passato il sconforto? Mi siedo là. Sappiate che vostra zia Sara ha fatto testamento quando voi eravate ancora bambine e da allora non lo ha più cambiato. Ho sempre dedicato tutto il mio affetto alla povera zia Sara. Io l'ho amata con tutte le mie forze. Oh, zia Sara, perché ci ha lasciato in questo smisurato dolore? Dolore? Ah, dolore, smisurato, dolore. Eh, ma non soffriamo oltre. Leggiamo il testamento dell'arpia, della zia. Prima di iniziare, è presente la signorina Jessica? Presente. Gloria? Presente. Rita? Presente. Giorgina? Assente, professore. Ma che c'entra, professore, scusi? Ah, no, mi scusi. Reminiscenze scolastiche, insomma. Eh, ma se manca la signorina Giorgina, come si fa? Ma che ce ne frega di Giorgina? Procediamo senza di lei. Io posso pure leggere il testamento, ma ho bisogno delle firme di tutte le eredi. Ma io no! No! Va bene, facciamo così. Vuol dire che oggi daremo lettura delle ultime volontà della signorina Sara e poi domani torno per le firme, perché io non mi posso trattenere oltre. Sarete voi a dire il contenuto del testamento alla signorina Giorgina? Sì, sì, io lo dico io, io lo dico io, io lo dico io, sì, sì. Eccoci qua. Io, sottoscritta Sara Franca Marta, alla presenza del notaio Giorgio Lindo, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, volendo disporre dei miei beni nel momento in cui avrò cessato di vivere, esprimo con questo atto le mie ultime volontà. Nomino eredi universali le mie nipoti, Gloria, Jessica, Rita, e Giorgetta Franca Marta, figli dei miei cari fratelli, con la seguente clausola. Per prime avranno diritto all'eredità solo quelle che, al momento della lettura del testamento, saranno ancora nubili. Nubili? Nubili. Non vi tocca niente. Aspettate un attimo, io sono vedova, quindi posso essere considerata single, nubile, zedella. No, mi dispiace. Eh, fermi tutti, fermi tutti, io sono sposata da appena una settimana, sono ancora in rodaggio. Per favore. Moto. No, no, non è così, non è più nubile. Ma perché ti ho sposato? Avete in bici anni che mi faccia la stessa domanda. Signori, non ho ancora finito di leggere. La suddetta condizione potrà essere sciolta solo nel caso in cui tutte le mie nipoti siano sposate. In tal caso il patrimonio sarà diviso equamente in parti uguali. In caso contrario tutta la mia eredità andrà solo... Eh? ...a chi sarà nubile. Firmato Sara Franca Marta. E con questo la signorina Sara ci ha fatto conoscere le sue ultime volontà. Non vi tocca proprio niente. Ci voleva tutte zitelle acide come lei. E invece siete solo acide. Ma mi scusi signor notario, questo allora significa che l'unica erede sarà la signorina Giorgetta. Non è sposata? Sono single ma ancora me la sento. No lei, la signorina Giorgetta. Arresta un zitella come dopo se ci cadazza Sara. E allora tutta andrà a lei. Questa tenuta, i soldi in banca, i ricavati degli investimenti e anche l'assicurazione sulla vita che la defunta aveva stipulato. Scusate ma io non mi posso trattenere oltre. Tornerò domattina alle 11 per le firme. Arrivederci. Ciao notario. La sciacquola tu che si ammocca tutta l'eredità. Mi sto sentendo male. Amore ma che stai? Lenti! Ma non è possibile, è uno scherzo. Ma quale scherzo? Soldi, soldi, soldi. Volevi tanti soldi e invece ora ti insonni? E cosa vi attocca a voi tre? Cavabigliatino da re? Che commozione! Ma che commozione vedervi così afflitti, così disperati. Oddio, per la morte della zia Sara. E pensare che ero convinta che della povera zia Sara non ve ne importasse proprio niente. Tant'è che quando ho saputo che venivate qua per la lettura del testamento e di corsa spatti, ho pensato. Voi vedere che sti cosi fiduosi venono solo per mangiare i soprappelli da monsignora? Questo ho pensato di tutti. Anzi no. Di tutte no. Ah, non l'hai pensato? Di tutti no. Solo di voi tre. Perché della signorina Giorgetta non lo posso pensare. Quella è un angelo. Levate mille davanti che asciuppiamo. Lucia, per cortesia, il dolore in questo momento è troppo fresco. Lasciaci soldi. Certo, certo. Soldi, soldi, soldi. Volevi tanti soldi e invece ora ti insonni. E sapete che vi tocca a voi tre? Cavabigliatino da re? È arrivata la signorina Giorgetta. Che bella, che duce. Quando ci vuoi agli apri? Quando ci vuoi un gonzo? Ci appizzai, ma che è un viaggio di nozze. E oddio, vina con piscina. E io come me li pago i debiti. Venga, venga, signorina. Sa come sono afflitti. Guardi, come sono disperati. Che gliel'avevo detto. No, no, non fate così. Coraggio, cari cugini. Pensate che zia Sara sarà sempre presente in noi per la sua ricchezza morale e spirituale. Ma ammazzare. Come? È Giorgetta. Ciao, benvenuta. Scusate per il ritardo. Mi ero impegnata con la mia associazione di volontariato. Lo sapete che a me piace aiutare il prossimo, vero? Lo sappiamo, lo sappiamo. Lucia, per cortesia, non è che potresti usare i miei bagagli in camera, per favore? Ma certo, signorina, come no. Anzi, guarda, le ho preparate il letto con le lenzuola di seta che lei preferisce. E quando lei è comoda me lo dice che io le accendo l'idromassaggio nella bassa. Grazie, grazie, grazie. È sempre gentile, Lucia. Ecco per lei, questo è altro. Invece voi io, cari cugini, non vi posso vedere così. Non ce la faccio. C'è troppa sofferenza sul vostro volto. Ma pensate che la sofferenza fortifica. E poi ricordate che un giorno sarete tutti con zia Sara. Ma picchi, tu si è esonerata. Ma no, che c'entra? Lo dicevo così per consolarvi. Ma poi del resto la morte fa parte del ciclo della vita. Un giorno toccherà a me e domani tocca a te. E' per questo che io non mi dispero come voi per la dipartita della nostra cara zia Sara. Perché so che lei ci guarda dall'assù e ci aspetta a bracciapelle. Buono. Ma piuttosto, sapete come sta a coda di fulmine? Chi è il capo della tribù indiana? Il cavallo della zia. Il cavallo, è uno stallone. Ma sapete che sono l'unica che riesce a montarlo, vero? Perché lui si fida solo di me. E se qualcuno si avvicina, inizia a scalciare, si imbizzarrisce. A Pippo, lo stalliere, lo ha mandato all'ospedale con un colpo di zoccolo. E vabbè, adesso però io vado a rilassarmi nel mio bel idromassaggio. E poi penso che andrò a prendere coda di fulmine. Sì, ci faremo una passeggiata. Ma tornerò prima che faccia buio. E poi animo, cugini. Ricordate che zia Sara è qui con noi. E' viva? Ma no, con il suo spirito. Ci vediamo dopo. A mia chissà, ma stai chiamando a cà. Cà, proprio cà. In angala. Potresti cascare il tuo cavallo e intapparare la testa? E quando mi sa? Tanto dici che inizia Sara l'aspetta a brecce aperte. Certo, così noi ci prendiamo la nostra eredità. La vostra? Vostra eredità. Certo che sarebbe un bel colpo di fortuna se cascasse da cavallo e morisse. Impossibile. L'hai sentita? Lo può avvicinare solo lei. Solo lei lo può montare. E quando casca? E quando casca. Servono le mele. Ma vedi che Giorgetta ne è biancaneve. Per coda di fulmine. Le mele procurano colite ai cavalli. Se ne ingerisce in grandi quantità mentre lei lo cavalca a lui gli prende un colpo di colite pesante e poi vedi come si bizzarrisce. Dici che funziona? Eh, possiamo provare. Ma state parlando seriamente? Voi state seriamente parlando di uccidere una persona? Cioè per voi i beni, i materiali, i soldi contano più della vita umana? Ma che gente siete? Se divento ricca ti regalo la Porsche. Enrico, guadiamo sto buma e è da cosa? E guai se a qualcuno scappa qualcosa sul testamento. Sì, ma chi gli porta le mele allo stallone? Quello scalcio ha mandato all'ospedale lo staniere. Lo senti? Sì, ma chi è il fuori? No, no, non guardate me. Io sono allergico ai cavalli. Allergico? Ma si sta calando i canni che vanno a piebre il piccino. Quanto si scongioruta, la moglie? Non sai che i canni che vanno a piebre il piccino? E se sterilizzano? Adesso basta. Non possiamo perdere tempo. Ora facciamo un sorteggio per chi deve portare le mele a coda di fulmine. Ah, ma di Enrico, molto bene. Il sorteggio, il sorteggio. Forza, Lucia, io sto troppo. Io di chi sta mascando? Forza, Lucia! La signora ha chiamato? Sì, ha chiamato. Prepara una tazza di tè. Subita, signora. Arraggiate il malavocato. Ma ti serve il momento di fare merenda? Il tè per Giorgetta ci serve per temporeggiare. Mentre lei si beve il tè noi facciamo ingozzare coda di fulmine. Enrico, Enrico! C'è C'è Jessica C'è C'è Brando C'è Gloria Gloria C'è Forza! Rita Rita, ci siamo tutti. A posto A posto, vai, vai. Aspetta, aspetta, aspetta. È caduto un fogliettino. E che scavo? Posso sorteggiare? No, no, no. Ci vuole la remanata. Non è che arriviamo così. Vesuta, vesuta. Enrico. Sì? Enrico. Sì, dimmi. C'è scritto Enrico! Ma perché io? È perché è uscito il tuo nome. Ma che c'è, Drio? Vai, 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 vai. Vai, c'è sto di mela all'ingresso. Quanto è? Quanto è? Quanto è? Quanto è? Quanto è? Vai, vai, vai! Ma se non doveste funzionare? Ho un piano B. Un piano B? Scusa Rita, ma non è che stasera che te vado dopo, come si chiama, te fa tenere gli stinti omicidi. Ma perché non te vado uomini e donne come fanno tutti? Sto pensando che il bagno me lo faccio dopo la passeggiata a cavallo. Tanto il tempo ce l'ho e il notaio non è ancora arrivato, giusto? Sì. È arrivato? No. Sì o no? Domani. Ha chiamato per avvertire che aveva un contrattempo e arriverà domani intorno alle undici. Ma bene, allora posso andare a galoppare. Signori, scusate, ma ho visto il signore Enrico che entrava nella spalla con una cesta di mele. Lucia, vedi che sta bucchendo l'acqua, vai! No, 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 non vorrà mica dare le mele a coda di fulmine, gli fanno male. Ci verrà, Colina? La lingua! No, 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 no. Le mele sono per Enrico. Ha avuto problemi di stomaco e si sa, le mele scingi uno stomaco. Sì, ma perché le mangio nella stalla? E perché gli piace il feto della stalla. Dice che la puzza di Letame gli ricorda la sua infanzia. Va bene, ma deve stare attento a coda di fulmine. Sì, 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 sì. Infatti è meglio che tu vada a controllare nella stalla. Sì, va bene, sarò di ritorno tra una mezz'oretta. No, sapremo, però. In che senso? No, no, no. No, Brando voleva dire che non sappiamo se al tuo rientro la cena sarà pronta. Io questo volevo dire, solo che mi è rimasta lasciatata a metà. Va bene. E quindi... Va bene, ci vediamo dopo, devo andare. Allora, ci vai. Signora Rita, ecco la tazza di te che mi aveva. Poggialo sul tavolo e vai a preparare la cena. Sì, avete qualcosa di voi che preferite? Caricavate. Non ci ne mi dispiace. Ah, beffete. Sì, come? Mio marito scherza. Andrà bene anche una semplice minestra. Una semplice minestra. Sì, sì. Io speriamo che vado già verso. Non mi scappa, che vuoi. Che cos'è? Veleno. Veleno? Veleno? Sai perché? Ma te li ho piaccia qui là. Ma tu cammini qua, veleno, dalla bossetta. È avanzato. È avanzato, è avanzato. È avanzato. Scusa Rita, non per fare il mio fatto d'oro, ma esattamente tuo marito, come è morto. È successa una disgrazia. Enrico ha beccato una serie di cacci da coda di fulmine. Io l'avevo detto, ve l'avevo detto. Comunque ho già chiamato l'ambulanza. Non dà segni di vita. Cosa? C'è funerato una settimana su A6. Ma presto, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Levate, Lucia, leviti. Levate, Lucia, leviti. La cena è... Un bugno di pazzi. Aveva ragione, signora Sara. Le sue nipote, ci maleducate, ci scavagate. Magite. Ora poi ci hanno pure avvelenato, quando aveva sempre la Giorgetta diventa l'una che rete. E lì a chi c'è andata? Tutta la premura. Prepara la tazza di te, ma la sarugata. Ora, sai perché ci dico che mi ha più? Io so, salute. So facci. Ah. E mi faccio magari un bello poco di relax. Prima che venimo. che sono una cosa impossibile. Spero proprio che domani se ne vanno. Perché non ce la faccio qui? Perché domani mi fanno vivere questo. Aveva proprio ragione, sa signora. Ah, come la combattisci fuori. Ma che brutto sto te. Ma che c'è? C'è un sapore che questo brutto pare veleno. Ma non credo che sia scaduto. Ma chi è scaduto, ma caro te? Mi sento male. Non respiro. Non respiro, mi sento morire. Moro. Ma speriamo che l'ambulanza arriva presto. E ripeto, tutto brutto figlietto. Ma adesso che facciamo? E che facciamo? E adesso dobbiamo procedere con il piano B. Ma non ci hai detto qual è il piano B. E facciamo bere a Giorgetta il tè avvelenato. Ma dov'è la tazza? Lucia! O Santa Maria delle Cottia! Lucia ha bevuto il tè avvelenato! Un bello veleno! Non esiste più la servitù di una volta. Si prendono queste licenze e bevono il tè senza chiedere il permesso. Ragazze, qua c'è una morta! Ma magari è solo svenuta, controlla. E' controllato? No, a me me fanno senso e morta. Certo perché i miei morti mi piacciono. Quante storie controllo io. Conferno è morta! Magi! Si, ma ora la manlevare di qua. Prima che arriva Giorgetta, possono! Giusto, avanti! Brigati! E che cosa volete da me? Che ora te la carichi sulle spalle e te la porti in un'altra stanza! Ma perché quando si dice cocomannare è meglio di, eh? Volgare, sei volgare. Volgare, volgare, però non mi riuscire. Ah, bene, ti aiuto. Aiutatemi, aiutatemi. E' un attimo, aspetta. Che succede? Che ha Lucia? Nei, ti mosse. Ah, mosse. Ma da lui ti è avvelenato. Ah, il ti è avvelenato. Ma Giorgetta dov'è? E sta tranquillizzando il cavallo. Stranamente l'ambulanza è arrivata subito. Si sono portati a Enrico al pronto soccorso. E' tutto rotto, ma canta. E' tutto rotto, ma canta. E' avanti, forza, schicciamola. Forza, forza, portiamola via, dai. Ma forza, tu sei un me ne chiede in una lera appena eredita che non mi ha toccato. Avanti, forza, sbrigati. Aiutatemi, aiutatemi. Aspetta, aspetta, uno, due. Che ha Lucia? Perché hai gridato? No, niente. Stavamo tranquillizzando Lucia. Ha avuto un attimo di scoramento pensando alla zia Sara. Non ci aspettavamo che entrassi così. A morte subito. Ma sta male? No, 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 no. Ma sembra svenuta. Lucia, stai bene? No, 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 no. Sì, sì, ci occupiamo noi di Lucia. Sì, sì. Tu vai a cambiarti, vai a sistemarti. Sì, sì. Faccio a cui vuoi, ma vai. Povera Lucia, è così affezionata alla zia. Poverina, io... Il tè! Ecco cosa ci vuole. Lo preparo anche per voi. No! Lucia, tu lo vuoi un po' di tè? Troppo tardi. In che senso, prego? No, volevo dire che per il tè è troppo tardi. Perché a una certa ora, se sape, ti agita. Hai ragione. Sì, sì, forse è meglio che io vada a preparare una tisana. Però Lucia, tu fatti coraggio e ricorda che la vita va avanti. Chi te la usi? Avanti, forza, spicci e disco. Forza, forza, forza. Forza, forza, forza. Forza, forza, forza. Ma tu, forza. Mi dico che sta cascando. Forza, forza. Allora, aiutatelo. Un, due, due e tre. Brava. Giralà, giralà, giralà. Giralà, giralà, giralà. Aiutatemi. Giralà, giralà, giralà. Bravo, così, così. Bravo. Giralà, avanti. Ora, indietro. Indietro sempre dritto. Vai, vai, vai. Ma non mi dite la mano. Vai, vai, vai. Ma c'è bisogno di aiuto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ma come ci buttavo, amico. Ma ne hai ancora di quel veleno? Così non mettiamo nella sua tisana. No, no, mi è finito tutto. Che spreco. Dobbiamo procedere con il piano C. Cosa hai pensato? Eh, l'unica è affidarsi a un professionista. Un killer professionista. Pronto? Gio? Sì, sono Cavallina Storna. Cavallina Storna? Sì, ho un altro lavoretto per te. Sì, ora ti spiego i dettagli. Sì, ti ricordi quella volta? Gio, guai, guai, guai. Io stai andato. Non mi ha scoperto più fino a quando. Non mi ha scoperto. Un'erita. Caruso, tenemola d'occhio a chissà. Tenemola d'occhio perché di chi sta mascando? Chi sta pericolosa? Sta parlando al telefono con un killer per ammazzare Giorgetta. Che sta facendo? Eh, al telefono con un killer. Ma sta parlando la casa degli orori. L'hai sistemata, Lucia? Sì, sì, l'ho sistemata. Ma mi sento a letto, mi giro e nella stanza c'è una teca gigantesca. E voi sapete chi c'è in questa teca? Che c'è? Un serpente! No, 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 no. Ma come ci sperciamo a buccia sia di tenere se un serpente vi cuincia? No, 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 il serpente no. Lo sai che se lo vedo mi può venire un infarto. Gloria, la moglie, che fa? No, saccio, saccio che se viene un serpente ti viene un corpo sicuro. Ma l'hai chiusa la porta? L'ho chiusa. Non c'è pericolo? Non c'è né pericolo. A parte il fatto che in pericolo c'è il ruolo di serpente, casomai. Perché se vi muzzica, moritevola. Quanto sei sconchioruto. Tutto sistemato. Presto la cosa fiducia di Giorgetta non sarà più un problema. Rita, scusa, ma tu per davvero hai chiamato un killer? Ma come ti passa a fare testa di fare venire un estraneo a me e se ne altre cose? Ma io sono cliente. Ma uno può essere cliente in doccio raro. Non dà l'impiegato, non dà l'amace all'aro. Eh, in un certo senso lui lo è. Mi sta venendo irritare. Comunque, gli ho detto che deve sembrare una morte naturale. Quindi niente sangue, niente pistole, un semplice strangolamento. Ma che cosa hai niente? Ma è più teggiorita, non è per fare i miei fatti. Ma esattamente, tuo marito, come morì io! Andiamo a dormire, va? Andiamo a dormire. Così, una volta che Giorgetta è morta, le altre tre nipoti, cioè noi, avremmo diritto a tutta l'eredità. Perché siamo tutte sposate, come ha scritto da serpe velenosa, da giù schifio di testamento. La dolcezza di questa donna si fede, proprio... Buonanotte! 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 Magico! Non me la salta solo! Ho preparato la tisana. Ma dove sono finiti? Vabbè, saranno andati a dormire. Lucia, posso? Lo so che stai dormendo, ma ti ho preparato la tisana. Te la lascio comunque qua sul comodino, va bene? Buonanotte, Lucia. Oddio! Che cosa ho urtato? Scusami, Lucia. Buonanotte! Buonanotte! Finisciola! E ancora, viva dall'apparazzidella? Potrebbe sentirti! Ho capito, ho capito, non c'è bisogno di insistere! Buongiorno! Ho preparato del caffè, se volete. È strano che non fosse ancora pronto. Di solito Lucia è già sveglia a quest'ora. Ma pensate che stia ancora dormendo? Che si chiama la zero? Te l'abbiamo detto che era sconvolta. Ah, povera donna. Le porto il caffè? No! Perché? 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 Ha un suo boomerang, questo perché. Eh, perché non si è mai vista la servitù servita. Di solito la servitù serve. La servitù serve. Ma Lucia è una di famiglia. E poi è avanti con l'età, ieri era molto scossa. Vado a vedere come sta. Eh, non sta. Come non sta? Non sta bene? Sì, Brando voleva dire che non sta in casa. È uscita stamattina presto. Ah, e dove è andata? Dove è andata? E dove è andata? E dove è andata? Dove è andata? Vieni che casca sempre a casa. È andata a messa. A messa? A messa. A messa è andata. A messa. Va bene, pregherò per la cara zia e andrò anch'io a messa. Tanto il tempo ce l'ho perché il notaio arriva alle undici, giusto? Giusto. Benissimo, a dopo, Lara. A dopo, a dopo. Brando, devi portare Lucia fuori da questa casa immediatamente. Ma perché io e soprattutto non la metto? Nel bagagliaio della tua macchina. E perché non lo mettiamo nel tuo di bagagliaio? Perché è un regalo di nozze. E quindi? E quindi non si è visto mai una macchina nuova che ha fietti di moto. Ma la sei da chissà? Insomma, Brando, ti ho detto che appena divento ricca ti regalo la Porsche. Non discutere! Ma tu stai dicendo cosa? Ma cosa stai dicendo? Ma io questa pazza ne ho a combattere. Ma come posso combattere questa pazza? Signore, buongiorno. E lei che ci fa qui? Ho trovato la porta aperta. Sono venuto per le firme. Ma l'appuntamento era per le undici? Lo so, lo so. Però io alle undici mi devo trovare fuori città. C'è qualche problema? No, no. Tanto siete venuti qua. E siamo qua. Siamo qua. E siamo qua. Usa la porta sul retro! Come prego? E dicevo, signor notaio, che la donna di servizio usa sempre la porta sul retro e lascia aperta quella principale. Potrebbe entrare chiunque. E signor notaio, credisci a una tazzina di caffè? No, grazie signora, davvero. Ma prego, signor notaio, se la prenda una tazzina di caffè. Ho detto di no, non faccio complimenti. Signor notaio, se la prenda una tazzina di caffè. Grazie, lo gradisco volentieri. Grazie. 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 La donna di servizio? Non c'è, è ammessa. Non so se è ammessa, ma di sicuro stanno battianno. Non ho ancora visto la signorina Giorgetta, spero sia arrivata. Ieri sera? Purtroppo. Eh, capisco la vostra delusione. Ma tra parenti che si vogliono bene come voi, basta poco per sistemare tutto. Coppocicco. Aspetta, aspetta. Cosa intende dire esattamente, signor notaio? La signorina Giorgetta, essendo l'unica nubile e quindi erede universale dell'intero patrimonio, potrebbe con una semplice firmetta concedervi una parte dell'eredità. Anche tutta? Anche tutta, se volesse. Dovrei avere con me i moduli da farle firmare. Ma prima ovviamente devo parlare con l'interessata. Piuttosto dov'è? E' andata a messa. No! E no, è di là che si sta cambiando. Ma proprio ieri lei stessa ci manifestava la sua volontà di devolverci tutto. Tutto? 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 E tutto! E non vi ricordate ieri sera mentre eravamo tutti insieme a recitare il rosario Ave Maria? Salve regina! Nel mio re che inghecchio è così sia! Scusate, che rosario è? Il tibetano. E comunque, Giorgetta diceva, voi, care cugine, meritate tutto. E non io posso prendere tutta l'eredità per me. Voi che siete state con la zia fino alla fine, io niente merito! Niente! Ma io non ho mai sentito una cosa simile. Neanche io. E neanche io avrei mai pensato che Giorgetta potesse essere così altruista? E forse lo fa per una questione di coscienza, con la vita dissoluta che fa. Hai il vizietto. Ma quale vizietto? Gli uomini. Ma che dici? Scusi, signor notaio, se ne parlo davanti a lei. Ma Giorgetta è una satanata di sesso. 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 Li paga pure gli uomini. Paga gli uomini per fare sesso? Eh sì, ma non è colpa sua. Non è colpa sua. Non è colpa sua. È malata. È malata. È malata. È malata di sesso. 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 E lei sa che in questo modo sperpererebbe tutta l'eredità della zia. Per questo vuole lasciare tutto a noi. E per evitare che tutto quanto sia sperperato in festini di sesso e orge. Sesso. E orge. Tutto bene, signor notaio? No, cioè sì. E allora, lo vuole tirare fuori? Jessica! Qui, adesso? Sì, c'è. No, no. Sì, lo tiri fuori, il modulo. Ah, il modulo. E no, il modulo ce l'ho in macchina. Però posso andare a prendere? Eh sì, Jessica, accompagna il notaio alla macchina. Prendi tempo che mi viene prendendo. Prego, si accomodi. Ah, voglio canoscere sta Giorgetta. Ma si può sapere perché hai detto quelle cose su Giorgina che è tutta casecchiesa e che forse non l'ha visto manco mai un uomo la sua vita? Ho fatto per quel porco piacere. Ah, vi devo dire una cosa. Hai sistemato a Lucia? Sì, sì, è mica. Ma quando ho visto? Ma vi devo dire una cosa. Brando! Ora tocca a te! È arrivata la mia ora. Devi fare Giorgetta. C'ha fare io? Devi firmare al posto suo per devolverci tutta l'eredità. Lei non firmerebbe mai. Poi ora il notaio non c'è che sta andando alla macchina. Lei non c'è neanche. Quindi tu sei l'unico che si può vestire da donna e fare Giorgetta. Ma perché non devo fare io? Perché il notaio non ha visto Giorgetta. No, invece ci ha visto. Quindi tu ora ti vesti da donna e fai Giorgetta. Rita, si capisce che sono un uomo. Non si capisce, non si capisce. Grazie a me, chieri. Brando, sei più credibile vestito di femmina che di mascolo. Io ti ringrazio per la stima proprio e l'affetto. Basta, non possiamo perdere tempo. Gloria, vai nella stanza della zia, prendi vestiti, cappelli, insomma, dacci un'ambursata a tuo marito e tornate subito qua, immediatamente. Vado. Che è? La teca è vuota. Quale teca? L'altra sera, quando posai a Lucia, nella stanza della zia c'era una teca con un serpente. Vivo? E certo, vivo. E che ci fa un serpente nella stanza della zia? E che ne sa, se fosse tu sia se voleva fare una borsetta a un marito scappi, non lo so. Fatto sta che la teca adesso è vuota. Mi stai dicendo con serpente e peri peri? Sì, e se lo viene a sapere Gloria con la fobia che ha, gli prende un colpo, un infarto secco. Il notario è tutto pronto? Ma dove sono? Pronto? Sì, sono io. In che senso, scusi? Ma la cerimonia in chiesa non è valida? Quindi lei mi sta dicendo che se non siamo registrati al comune, per la legge il matrimonio non vale? Quindi lei mi sta dicendo che per la legge io sono nubile? Sicuro? Ma grazie! Grazie! Arrivederla! Arrivederla! Sono single? Nubile? Sono zitella? Sì! Non lo deve sapere nessuno, altrimenti i cammi fanno fare a motto dosugi. Devo pensare a cosa fare. No, zitella, a me si bevi. E niente, oggi devo fare una strage più forza. Permesso? Si può? Ah già, sei tu. Ma scusami, ma quando mai si è avvisso un killer che ha domanda permesso? E poi tu che ci fai qui? Dovevi arrivare più tardi. Scusa, cavallina Storno, ma mi è entrato un altro lavoro e allora ho pensato di anticipare. Allora, dov'è la mia vittima? Adesso sono due. Come due? Eh sì, oltre a mia cugina Giorgetta si è aggiunta anche mia cugina Jessica. E me lo dici così? E come te la dire? Ma io ancora devo capire chi è sta Giorgetta. Ora sta Jessica qui è. Com'è fatta? Di un spuntau. E io mi devo organizzare il lavoro. Io sono professionista. Oh, Mbare, stai calmino. Vuol dire che veniste per fare un viaggio e tu sei pizzi. E vabbè, ti faccio lo sconto come ti va. Ma tu sei sicuro che sei killer? Certo, sono iscritto all'albo. Scusami se mi sono alterato prima, ma io ho bisogno di dettagli. Questo non è un mestiere che si improvvisa. Sì, hai ragione, hai ragione. Va bene, ora ti do tutti i dettagli, però non qua, perché qua ci potrebbero sentire. Andiamo di là, forza. Brando esci fuori. Maffrundu! Brando esci fuori ti ho detto. Maffrundu! Direi, tu non esci fuori! Dai che ti metterò in sé. Questa cosa che mi state facendo fare ho oggi accattata a Ferrari. Ma che sei pazzo? Lo sai come se ne è che era lì sé? Ma non sei perrucchio, sa? Bastato! Così stanno una signora, non sai. Cos'è stato? Niente. Non hai sentito? Assolutamente. Ecco qua il modulo. Salve! 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 Lei deve essere Giorgetta. Sì, signor Nataglio. La famosa Giorgetta. Famosa? In che senso? Ma lo sa che non si direbbe? Non si direbbe? Ma chissù, chi è? Preagura dopo a mattina. Ma su, Nataglio, non indugiamo oltre. Procediamo con la firma. Eh, cara signora, io per essere sicuro che la signorina non abbia subito pressioni da voi parenti, devo restare da solo con lei. Ma certo, certo, certo. Ma certo, certo. La lascio con questo splendore. Mi raccomando, Giorgetta. Non ti dico, ma... Ciao. Ciao, non ti dico. Non è un caso scocciato. Sì. Siamo soli. No taglio. No taglio. No taglio a questa mano. Bella porcona di una zietella. Come dice, scusi? So tutto di te, ninfomane. Ninfo che? So del tuo vizietto. Ma quale vizietto? Dei tuoi festini. Nataglio, ma che cosa dice? Delle orge. Orge? Notare una cucinice stai mingato? Degli uomini a pagamento. No, 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 no. Ah, ho capito, vuoi alzare il prezzo? Quale? Quanto mi dai? Ma quanto ne vuoi? Ah, io con te ci vengo gratis. Ma dico quanto ne vuoi che tu vuoi? Ti piace il sesso aggressivo? No, chissà, sono io. Sì, veni qua. Notaio. Non fammi male. Notaio, che tu vuoi dire? Notaio, la prima. Lecca. Notaio, la prima. Ah, cazzo. Notaio. E fatemi chiamati. Rilasci, Notaio. Mamma mia. Mamma mia, leviti. Vieni qua. Notaio, mango molto. Notaio, Notaio. Neanche un pochino di romanticismo, Notaio. Non si fa così. Su, si alzi, Notaio. Notaio. E che fico morire? Ma non mi fico arrivare i miei. Notaio. Ma se chiuso morire, chi da me mi ammazza? Notaio. Notaio, per cortesia si spegni, Notaio. Allora l'hai pepita. E ecco chiuso mangiare il definitivo. Notaio. Notaio. Come faccio? Chiuso morire. Chieda, se io non ci faccio la carta fermata, ammazza mia. A cacciare la carta, vedremo. Vedremo che c'è scritto. Affimmo io. Affimmo io stavo rubendo, stavo a dire a morire. Io sottoscritto a Giorgetta Frangamarta, nel pieno possesso delle mie facoltà intellettuali e fisiche. Rinuncio all'intero patrimonio ereditato dalla mia defunta zia. Sara Frangamarta, cerchiamo una pinna. Giorgetta? Sì? E tu schifio sì? Già no? Mingo killer. Ah, the bitch. Death. Giorgetta Frangamarta, fatto. Cadavere di killer ignoto, immutante. Vabbè, ci metto fatto, va. Gio, ma che hai fatto? Il mio lavoro. Ma quale? Hai sbagliato. Ah, non cominciamo, eh. Allora, io qui ci ho scritto, ore undici e trenta, uccidere Giorgetta Frangamarta. Sono le dieci, ho pure anticipato. Ma questa non è Giorgetta, questo è Brando, il marito di mia cugina Gloria. Oh, ma siete sani da sta famiglia? E poi che hai fatto? Hai ammazzato pure il notario. Ah, no, 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 non è opera mia. Sì, ma ora la mallevari di ca, forza, aiutami, cominciamo da lui. Io sono un cavaliere, scusami, prima le donne. Oh, fronda. Ma come, come no, nessuno? Che mi piace? Caccia in duraggia. Ah! 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 Rita! Rita, calmati. Ma ti sembra il posto e il momento di fare certe cose? Col notario, poi? Quali cose? Questo è morto. Ah, guarda, ti capisco. Con Brando è la stessa cosa, come si dice. È inutile che un gizzi e fai cannola. Tanto santo è di un marmore non sura. Sarà letto con lui, ecco come sarà letto con un morto. È meglio, così non noterai la differenza. Ma perché il notaio non si muove? Gloria, guardami. È morto, non respira. Ma questo non è un recato, è un cimitero. Buongiorno, lei chi è? È Jessica, che fate a mazzo? No, fermo, che già facessi danno. Lei è mia cugina Gloria, la moglie di Brando. Brando, Brando? Sì. Condoglianza, signora. Ma che sta dicendo? Lui è Joe, il killer. Ah, lei è Joe, il killer. Piacere. Molto lieto, signora. Per il piccolo inconveniente faccio un ulteriore sconto. Ma di cosa parla? Eh, niente, bando ai convenevoli. Forza, portiamo fuori il notaio. Aiutami Joe, forza. E siamo a due. Forti, va. Giornata faticosa oggi. Che bell'uomo questo killer. Cos'è stato? No, calmati Gloria, non è quello che pensi. Oh sì, no, non può essere. Ora tu andrai di là e sicuramente ciò che pensi sarà nella sua bella teca. Sì, sì, vado. Vado, 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 vado a metà, vado, vado a metà... Ah, è vuota. Inserfetto. Aiuto, aiuto. Il cuore, aiuto. Inserfetto. Guai, ma quanto pesava la carina, me la vai a salute, che fatica. Sì, sì, senti, vedi che c'avemmo due cadaveri, e manco uno è quello giusto. Quindi ora se non ammazzi almeno mia cugina Jessica, io non debavo. Signor notaio, signor notaio. Signor notaio. Signor notaio. Ma dove sono finiti tutti? Appena tutto questo sarà mio, darò una bella svecchiata. Via questi mobili vecchi. Ci metterò uno stile moderno, sì. Rinnovo pure le camere da letto. Ci faccio un B&B di lusso. E nella stalla una bellissima spa. Dovrò organizzare pure la servitù. Lucia mosse in un momento sbagliato. Non vedo l'ora di fare la vita da ricca. Chiamo subito l'architetto. Ciao. Ciao. Ah! 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 De... bi... De... Cavallina Storna, tutto bene? Cavallina? Storna? Ma che è un serpente quello? Ma ci fu un'amoria generale in questa famiglia. Salve! Lei è il notaio? Veramente? Lo so, lo so chi è lei. E non sono diabolica. E certo, lei è Joe, il killer che è stato assunto per uccidermi. Ma lei è Giorgetta? Sì, sono io. Molto lieto. Ma come fa a sapere chi sono? Ho sentito la telefonata che Rita le ha fatto. Ah! E quindi sapeva tutto? Tutto. Ah! Ma prego, prego, si accomodi, prego. Sì. Sa, quando sono arrivata ieri sera stavo per entrare, ma poi ho sentito quello che queste tre serpi velenose delle mie cugine mi volevano fare. E allora ho deciso di iniziare a spiare i loro movimenti. Ah! Ora le dico una cosa. Prima di morire mia zia mi ha detto cosa c'era scritto sul testamento e io ero sicurissima che le mie cugine non l'avrebbero mai accettato. Certo, non pensavo che volessero farmi fuori, però è stato divertente vedere come si addannavano. Sì. Io sinceramente non sapevo come risolvere tutta questa situazione, ma ce l'ho pensato loro. Sono morti tutti. No, guardi, ce n'è una ancora viva. Gloria mi pare che si chiama. Gloria? No, no, è morta anche lei. Ha avuto un incontro ravvicinato con il serpente. Ah! Sapeva anche del serpente? Eh certo, l'ho portato io. Ah, e sempre io l'ho fatto uscire dalla teca. Maria, perché fa quella faccia? No, mi era stata descritta diversamente, a dire il vero. Imbare, buona sì, ma fissa no. Scusi, eh. Sì, prego. Mi trovo un attimino in imbarazzo. Io da contratto dovrei ucciderla. Ecco ti pavamo, sono tutti. Vero. A pezzinare una del travaglio. Ah no, se per questo te la faccio recuperare. Fai una cosa, vai in ospedale con la macchina di Brando e ammazzi Enrico, il marito di questa qua. Anzi, sai che ti dico, portati anche lei. Poi al lavoro finito ti pago tutto. Qui c'è il numero della stanza di Enrico. Ma stanno rezzando i cani. Eh, se ti disbrighi, ti do pure un'extra. Ah! Ma si può avere un anticipo? No, cerchi di andartene prima che ci ripenso. Su. Va bene, vado. Vai, vai, vai. Joe? Sì? Aspetta. Portati anche lei. Eh, sei mattina. Giornata faticosa oggi. Mi sape che cangio mestere. Eh, cara zia Sara. Cara zia Sara. Ti sei sempre fidata di me. Però ti dico una cosa, hai fatto un errore. Sì. Hai confessato cosa c'era scritto sul tuo testamento? Io non sapevo cosa fare, ero indecisa. Ma sai, la tentazione di avere tutto questo per me, subito, è stata troppo forte. Ma poi guardati, eri vecchia. Ma che ci campavi a fare? Io... Ho solo accelerato i tempi. Ah, 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 ah! Alla tua, cara zia Sara! Ah, 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 ah! Alla tua. Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Grazie a tutti 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 Devo ringraziare moltissimo Giovanna Criscuolo che con la sua infinita professionalità, la sua attenzione, la sua cura e anche la sua infinita pazienza ha reso possibile questo rinizio per noi e devo ringraziare l'amministrazione comunale che comunque ci supporta e ci è sempre vicina e approfittiamo della presenza del sindaco Buonasera, ben trovati Grazie a tutti 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 Oh 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti